Di Flintlock The Siege of Dawn c'è davvero molto poco da dire relativamente al gioco nello specifico sono sicuro che qualsiasi recensione che già potrete trovare online racchiuda un po' tutto ciò che l'esperienza vi offre nulla di particolarmente atipico tranne una meccanica che se non proprio totalmente nuova sicuramente è abbastanza originale che ho apprezzato e entrerò un po' più nel dettaglio più avanti ma in generale è quanto di più prevedibile ci si possa aspettare dopo aver visto un breve gameplay di due minuti circa quindi forse addirittura non c'è neanche bisogno di leggere la classica recensione ma di poter appunto già intuire un po' tutto dai video che trovate online. Perché dunque parlare di Flintlock? Io ritengo infatti che il valore più grande o almeno ciò che l'esperienza mi ha dato, il valore più grande di Flintlock risieda proprio nella possibilità di capire che, di dare una risposta la risposta arriva all'incirca verso metà gioco secondo me ma in realtà se già sapete che domanda porre forse potrebbe arrivarvi sin dalle prime ore ed è relativa al grande dibattito che tra l'altro è stato qualche settimana prima o qualche mese prima rilanciato sulla difficoltà dei Soulslike sul fatto che un certo livello di difficoltà sia solo ed esclusivamente un fattore elitario un fattore che vuole far sentire una parte di quella community come superiore al classico hardcore gamer rispetto alle persone che invece vorrebbero potersi approcciare al Soulslike e che invece in virtù di questo lieve dettaglio, ossia la difficoltà, non riescono ad accedere a quel genere di messaggio Ecco, io ho sempre sostenuto che quest'idea fosse un po' banale o meglio, banalizzante di ciò che è la comunicazione anche videoludica perché? Perché chiedere un cambio così netto all'esperienza che il Soulslike offre e quando intendo Soulslike ovviamente mi riferisco principalmente a quelli prodotti da From Software ma in generale oramai un po' a tutto il Soulslike che viene prodotto e pubblicato perché quella componente si interseca così visceralmente e profondamente sia con il design del mondo di gioco, con la storia e poi con le meccaniche con il game design nel senso più stretto del termine che richiederne un abbassamento significa chiederne un forte cambiamento radicale Il che non è un problema se lo si interpreta nell'ottica dell'accesso al consumo Cosa intendo? Io voglio poter fare gli screen belli di Elden Ring Io voglio poter partecipare al discorso pubblico intorno a questo gioco di cui stanno parlando milioni di persone quindi anch'io voglio sentirmi partecipe di questo fenomeno E un po' come accade con quelle serie che diventano cult o comunque importanti arrivate alla quarta o quinta stagione dove ci sono tantissime persone che non avendo voglia reale di recuperare le prime un po' partono immediatamente pervenute dicendo questa serie è brutta, perché? Perché in realtà non si vogliono recuperare le altre Allo stesso modo, secondo me, molto spesso chi critica il Soulslike non ha mai davvero provato a dare Ecco, non è mai stato davvero interessato a essere incluso nel messaggio Questi sono i due temi, questa è la domanda ed è anche la risposta che Flintlock ci dà ossia, riuscire ad accedere al Soulslike Dark Souls, il primo Dark Souls quello che per me è il capolavoro del, chiamiamolo genere anche se sarebbe più corretto usare stile ma abbassare la difficoltà nel senso più ampio del termine quindi nemici con una vita più bassa personaggio con maggiore vita meno colpi necessari da batterli pattern di combattimento piuttosto che essere 15, 13 o 12 o dei tempi di reazione più ampi in modo tale da garantire alle persone la stessa accessibilità ecco, questo va a modificare quello che è il messaggio che si sta dando a mio parere non si può che rispondere sì, la risposta non può che essere positiva a questa domanda e di conseguenza bisognerebbe rendersi conto che chiedere un abbassamento del livello di difficoltà del Soulslike identifica il chiedere anche che venga cambiato ciò che il Soulslike dice e quindi non essere davvero interessati a entrare in connessione con un messaggio ma essere interessati a consumare un prodotto perché subiamo a volte pressioni sociali perché subiamo che sia FOMO che siano altri fenomeni di questo tipo attenzione, questo lo dice una persona e lo dimostrano i post che potete trovare su Dplay è una persona che molto critica nei confronti dello stile Soulslike dato che ritengo che proprio per questa sua difficoltà intrinseca che una volta però esplorata e capita diventa invece un meccanismo facilmente anche regolabile e comprensibile perde il senso di ciò che sta cercando di dire quindi attenzione, non lo dico per un tentativo di difesa a prioristica dello stile o perché io ritenga che la difficoltà debba essere un principio cardine dell'esperienza anzi tutt'altro ma volendo analizzare il videogioco come una forma espressiva come un testo da analizzare appunto perché si sta cercando di capire cosa questo testo vuole dirci rimuoverne la componente di difficoltà o di un certo grado di difficoltà è chiaro che poi si possono aprire miliardi di sfumature cosa si intende appunto per difficoltà se le persone che criticano il source like non è che vogliono che si trasformi ovviamente in un cosiddetto gioco di passeggiate ecco ma vorrebbero che ci fosse un po' più di sostenibilità e lì poi entriamo in altri discorsi che riguardano il fatto che quando si crea qualcosa si ha obbligatoriamente in mente un pubblico e che quindi From Software ha obbligatoriamente attenzione non è una scelta chiunque emetta un messaggio obbligatoriamente lo emette immaginandosi quello che è un lettore tipo un giocatore tipo o una giocatrice tipo o una lettrice tipo quindi questo è qualcosa che non può essere bypassato quindi è un discorso valido ma che può essere applicato al contempo anche al contrario cioè se davvero il punto è l'inclusività dovremmo chiederci come fare a rendere inclusivo Animal Crossing per persone che si addormentano nel giocare quel genere di esperienza che è molto più legata a un feedback anche loop molto più blando sotto certi punti di vista che potrebbe non essere adatto alle persone che invece si sentono coinvolte da un'esperienza come il Soulslike quindi in quel caso capisco la critica ma è una critica che può, ripeto essere letteralmente applicata a qualsiasi esperienza perché prevede un tentativo di espandere lo stesso messaggio a qualsiasi orecchio presente al mondo e purtroppo è un'ambizione legittima ma è qualcosa che da un punto di vista veramente pragmatico è impossibile impossibile per chi detiene il controllo di televisori, radio e social figurarsi per la creazione di un progetto comunicativo come quello di un Soulslike o in generale di un videogioco quindi in sostanza se invece si chiede difficoltà proprio nel senso di abbassare la difficoltà perché non è giusto che non si riesca a partecipare a questi mondi bellissimi senza passare da quella porta abbastanza spinosa della difficoltà e ribadisco porta spinosa della difficoltà che tranne Sekiro basta giocarne basta giocare a un Soulslike per in realtà già smussare gli angoli di questa porta e avere un accesso molto più snello e forse di questa cosa non si ragiona per i TPS per l'FPS per altri generi che sono già talmente che sono diventati o che erano fino a qualche anno fa talmente diffusi che nessuno si è mai chiesto quanto potesse essere difficile o complesso per qualcuno non abituato all'FPS giocare quel genere quello stile di esperienze e invece sul Soulslike che aveva ancora bisogno di essere categorizzato si crede che ci siano quindi tutte delle cose che sono superficiali e non fanno parte non sono quintessenza dello stile dell'esperienza e invece lo sono a mio parere quindi Flintlock vuol dire tutto questo non hai mai citato Flintlock fino ad ora perché ripeto al di là della superficialità del suo racconto a volte anche sinceramente abbastanza difficile da seguire sembra più una storia creata per creare tante diverse location tante diverse tanti diversi posti da un punto di vista estetico da esplorare quindi deserto neve trincea montagna piuttosto che un senso narrativo è un gioco anche dove il combat system in generale non è granché a volte secondo me anche con picchi di difficoltà che sono un po' sproporzionati rispetto al resto dell'esperienza e proprio per questo elemento cioè per il fatto di avere tantissimi falò per esempio una risposta da parte loro che hanno anche in passato fatto un bel a mio parere souls like come Ashen e che loro stessi hanno ammesso di aver prodotto un souls light quindi un souls like più leggero più sostenibile appunto proprio da quel target che vorrebbe avere un maggiore accesso a questo stile di esperienze e proprio quel light rende a mio parere totalmente irrilevante l'uso dello stile souls light i falò una delle loro risposte è stata quella di mettere tantissimi falò rispetto a un classico souls like come si traduce questa cosa nella possibilità di fare un farming infinito o comunque molto ampio nella sostanziale assenza di stress nel momento della morte nel momento della sconfitta nel momento della perdita di i punteggi delle anime di quelle che nel gioco non sono anime che in generale nel souls sono anime e quindi nella perdita delle sensazioni che generalmente restituisce il souls ed è un souls light forse proprio per questo quindi attenzione questa non è una critica al gioco che anzi proprio nel dichiararsi autonomamente in questo modo rende anche come dire fede alle sue promesse commerciali di marketing quindi davvero per me il souls light in questo caso risponde aiuta a rispondere con flintlock che tra l'altro non è il primo quindi come dire è un'altra risposta che può essere rintracciata negli altri souls light che sono stati pubblicati o nei souls light che non funzionano come quelli di from software come quelli più fedeli allo stile nel senso originario e ritengo che siano perfettamente utilizzabili come risposta quando c'è quel dibattito si dice guarda gioca a flintlock dimmi come ti sei sentito come ti sei sentita cosa si è sperimentato giocando a questa esperienza e potrete capire cosa si intende per la difficoltà e parte integrante di ciò che è il messaggio di ciò che è il messaggio del souls perché tra l'altro tutto questo rende sostanzialmente irrilevante tutta quella componente del souls di capire bene dove si sta andando di decidere una strada iniziare a percorrerla aspettando di trovare la scorciatoia una cosa che per me i souls avevano iniziato già a perdere da dark souls 2 piano piano sempre peggio in termini di inventività e creatività nella creazione delle famose scorciatoie flintlock in questo è molto molto più disponibile nei confronti di chi gioca e quindi ogni 3-4 minuti come vi anticipavo ci sarà una scorciatoia che è un banalissimo premere un pulsante che attiva un ponte volante che interconnette tutte le parti dell'esperienza che rende molto più leggero il giocare che toglie quel rischio di ripercorrere lo stesso spazio di impararlo a memoria per sentirse padroni e che invece ci fa dire passo la prima volta attivo tutte le scorciatoie e poi sostanzialmente volando passo dal punto del falò fino al boss o allo step successivo tutto questo rende veramente difficile credere che si possa usare il termine souls se non solo nel suo scheletro esiste un falò esiste un combat system che ha determinati parametri esiste un modo di curarsi che ha queste caratteristiche ed esiste un modo di esplorare lo spazio che ha queste altre caratteristiche in tal senso si è assolutamente un souls light ma privato di tutto ciò che si dà per scontato che descriva il souls ora attenzione questo non significa che uno stile non sia predisposto a cambiare i generi gli stili sono tutte cose fluide che cambiano col cambiamento culturale col cambio delle tecnologie non è che siccome il souls fino ad oggi è stato x allora dovrà per sempre rimanere x ciò che si intende è ciò che intendo io almeno quando intendo che la difficoltà è un elemento determinante non va rimosso quindi non è che il souls deve rimanere così perché così è bello e se non lo facciamo in questo modo invece è brutto ma che si dovrebbe ambire ad avere altre esperienze che vogliono usare quella struttura e la vogliono rianalizzare o reinterpretare in un modo che sia più inclusivo a certe persone piuttosto che ad altre ma non si può credere che il messaggio originale non venga modificato e quindi bisognerebbe più che altro chiedere modifiche o sperimentazioni altre e non che ciò che già esiste ed è stato pensato per esprimere il messaggio A venga obbligatoriamente cambiato perché non verrete inclusi nel messaggio A ma riceverete un messaggio B se il Soulslike quello che viene criticato per essere difficile dovesse abbassare il suo livello di difficoltà e ripeto questo non perché è importante proteggere la difficoltà viva i very gamers o robe simili ma perché ogni scelta dovrebbe non sempre così ma spesso ci sono richieste di mercato spesso ci sono altri fattori ma in generale bisognerebbe immaginarsi che quando si crea un gioco si sta pensando a un insieme di elementi che contribuiscono a emettere un messaggio una comunicazione nel caso dei Soulslike è abbastanza evidente che quella sia una delle componenti dell'esperienza a tal proposito una cosa che invece secondo me è stata molto interessante di Flintlock che vorrei veder ripresa che è poi quello che vi anticipavo in apertura è proprio legato al fatto che loro hanno immaginato immaginatevi un sistema come quello di Bloodborne del sangue solo che in questo caso ha a che fare con la fama quindi più cose giuste dal punto di vista dell'immaginario di un combattimento riuscite a fare più la fama intorno a voi sarà grande meno farete cose dalla grande fama e meno riceverete punteggio quindi immaginatevi di riuscire a schivare tutto al momento giusto di riuscire a fare tante combo diverse a uccidere tanti nemici in sequenza e in quel caso il gioco vi premierà dandovi non solo i 100 punti dell'abbattere un nemico ma i 300 punti dell'averlo fatto nel modo più eclatante possibile se invece verrete per esempio colpiti all'ultimo e si interromperà questa come si trasforma questa cosa in ottica ludica che quando voi fate una cosa figa sostanzialmente è questo partirà un piccolo contatore in alto a sinistra dovrebbe essere che dirà più 25% perché stai facendo questa cosa figa e voi potete mentre giocate proprio anche mentre combattete premere il tasto sinistro del pad e delle freccette e riscattare questi punti oppure potrete decidere di lasciare il contatore crescere man mano quelle cose fighe che fate aumentano a un certo punto rischiate però potreste rischiare di ricevere un colpo e perdere l'intero contatore alcuni punti vi verranno dati comunque ma non il massimo a cui potevate ambire quindi è un costante rischiare riscatto adesso o riscatto più avanti prendo adesso un po' o prenderò più avanti ed è una sensazione molto da sounds like questa la sensazione di stare costantemente in dubbio tra il sentirsi pronti a sfidare qualcosa in questo caso anche noi stessi rispetto allo stesso identico combattimento che abbiamo affrontato con lo stesso nemico dieci metri prima oppure dire no aspetta forse in questo momento è meglio che mi potenzi ancora di più prendo tutto ciò che posso e poi più avanti proverò invece a farlo in modo in modo stiloso ecco questa è una meccanica molto bella che mi ha ricordato quella del sangue di Bloodborne solo che in quel caso serviva più che altro a stimolare l'aggressività di chi gioca e in questo caso invece secondo me vuole stimolare un po' un miglioramento delle competenze proprio tecniche di gameplay perché in realtà il gioco non è assolutamente tranne in alcuni picchi ripeto che secondo me sono sbilanciati non è assolutamente escludente a proposito di inclusività come il Souls tradizionale quindi forse per stimolare in quella parte di chi gioca reazioni più da performance hanno inserito questo elemento che secondo me funziona davvero molto bene quindi in sintesi il valore di giocare a Flintlock è che secondo me racchiude in sé la risposta o una delle risposte a quello che è uno dei temi che quest'anno ho visto più affrontati e quindi forse se siete tanto interessati non tanto ai Souls-like ma a quel tema giocare anche solo qualche ora a Flintlock anche perché ripeto dal punto di vista narrativo non è che sia fondamentale chiuderlo ecco però ecco vi consiglio Flintlock come un percorso di approfondimento su questo macro tema del Souls che è un'unico che è un'unico di risposta di risposta